Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna un chilometro di coda in direzione Firenze e rallentamenti in direzione Livorno. Due chilometri di coda per un incidente avvenuto al chilometro 35 tra Empoli Ovest e San Mignato in direzione Livorno. In A11 per lavori di pavimentazione, stanotte in orario 22.6 sarà chiusa l'entrata di Alto Pascio in direzione Pisa. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, Firenze dal lunedì 3 maggio tornerà all'obbligo di spostare l'auto in occasione della pulizia delle strade. Quindi dalle 24 di domenica torneranno dove è previsto le rimozioni dei veicoli in sosta. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!